Gioia, colori, divertimento sono queste le parole che hanno accompagnato la giornata del 18 dicembre. Diverse associazioni sono state presenti in piazza dei medici per scambiarsi gli auguri natalizi facendo divertire con giochi le nuove generazioni. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Danilo Mengirulli. Noi siamo ragazzi della Croce Rossa, del comitato di Bari, sede locale di Bitonto e oggi nella giornata delle solidarietà stiamo proponendo questa attività che ha come titolo abbracci gratis, FIAGS appunto, e oggi noi regaliamo abbracci. Ogni abbraccio dura 20 secondi e quando dura 20 secondi rilascia un ormone chiamato sitocina che dicono sia un antidepressivo naturale. e dato il periodo che appunto siamo quasi tutti presi da infanni vari dal mondo delle tecnologie possiamo così dire, noi oggi regaliamo un po' di felicità a queste persone.